Ricapitalizzare o portare i libri in tribunale, è il bivio di fronte al quale si trova CSP e sul quale dovrà decidere il Consiglio Comunale. Intanto giovedì, nuovo incontro con i sindacati. Costa Crociera e Dona Savona, un'area giochi per i bambini. In tutti questi anni a Civitavecchia non è stata assunta una minima iniziativa di analogo toneo. Tenore, solo fumo e niente arrosto. Il maltempo continua ad abbattere l'inquinamento. L'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di Art Palazzo conferma il crollo di tutti gli agenti inquinanti a causa delle precipitazioni e del forte vento. Dopo il giro di tamponi conseguente la positività di un proprio tesserato, i casi al Civitavecchia Calcio salgono a tre. Esito positivo per un membro dello staff e un altro giocatore. Cristian Gasparri conquista la finale del trofeo delle cinture. A Campo dell'Oro, all'interno della manifestazione Pugni Popolari, il pugile ha battuto Sirica ai punti. Bene anche Marsili. Buonasera, ben tornati ancora alla nostra edizione del telegiornale. Ancora una volta Civitavecchia è il comune dove si registra il maggior numero di casi di quelli che rientrano nel territorio di competenza della Asle Roma 4. La Regione Lazio ha comunicato 23 casi positivi riscontrati nel territorio della Asle Roma, di cui 6 nella nostra città, dove attualmente ci sono 60 positivi al Covid-19. Un bivio per Civitavecchia servizi pubblici. Da una ricapitalizzare la partecipata, dall'altra il fallimento. Sul grande dilemma dovrà esprimersi forse la prossima settimana l'intero Consiglio Comunale. Intanto si discute animatamente. In maggioranza giovedì è in programma un nuovo incontro con i sindacati. Sentiamo le parole dell'assessore alle partecipate Grasso e del segretario generale della UIL, Giancarlo Turchetti, ospiti di TRC Mattina Live. Questa vicenda, secondo lei, quando in un modo o nell'altro troverà la sua quadra, la sua soluzione? Io mi auguro che la trovi già giovedì. A giovedì dove si vengono, se si riesce a portare a termine questo accordo, probabilmente questo accordo tracerà le linee su quelle che potranno essere poi le azioni future che dovranno essere messe in campo. Io mi auguro che si chiuda il prima possibile, anche per, ripeto, per dare certezza e dare tranquillità ai lavoratori che stanno oggi lavorando con il CSP, perché chiaramente la preoccupazione in loro credo che sia normale, come diceva prima Massimiliano. non sapendo qual è il futuro, è pericoloso e comunque non si lavora tranquillamente in azienda che sa che domani potrei portare lì in tribunale. Quindi è chiaro che la preoccupazione è fatta tra i lavoratori. Grasso. Giovedì può essere già un incontro decisivo per la risoluzione della questione CSP. il bivio per la ricapitalizzazione o meno della civilecchia servizi pubblici è un altro passaggio cruciale e ovviamente lo è. Allora, le relazioni industriali sono sicuramente un aspetto importante e questo ho già avuto modo di dirlo a Turchetti e ad altri suoi colleghi. il punto però è che il bivio e la decisione finale e quindi l'aspetto decisivo non sarà comunque giovedì l'incontro con i sindacati in cui comunque un percorso si è avviato e io sono convinto che sarà possibile portarlo a termine trovando dei punti di incontro sulle questioni aperte ma non è questo diciamo così che io guardo, mi perdoni Turchetti ma capisca anche il senso in cui lo sto dicendo, quello a cui guardo con preoccupazione per quella che potrà essere la decisione e le conseguenze della decisione è sicuramente la seduta del Consiglio Comunale, di là del piano di ristrutturazione che viene un momento dopo perché è lo strumento per riuscire la società. Ma oggi si deve capire che il Consiglio Comunale nella sua sovranità deve votare da una parte sul ripianamento di perdite a fronte di una delibere di un piano che ha ottenuto il via libera da parte di tutti gli organi di controllo, revisori dei conti del Comune, revisori dei conti di CSP, dirigente e ufficio del controllo analogo del Comune. Quindi il consigliere comunale che vota questo piano da un punto di vista delle responsabilità personali è sicuramente garantito dai pareri tecnici. Dall'altra c'è la scelta legittima che sarebbe legittima e libera da parte del Consiglio Comunale di dire noi la ricapitalizzazione non la votiamo e quindi la società va immediatamente in liquidazione con tutte le conseguenze del caso. Veniamo alla cronaca. Rubano all'interno del supermercato di Civitavecchia in Viale Palmiro Togliatti e il reato commesso sabato pomeriggio da una coppia. Gli agenti del commissariato Civitavecchia sono stati allertati dalla sala operativa dopo una segnalazione di alcuni passanti che riferivano di due giovani che si ricorrevano picchiandosi. Giunti sul posto hanno accertato che uno dei due era l'addetto alla sicurezza del supermercato. Quest'ultimo, insospettito dai movimenti loschi dei due, aveva deciso di seguirli fra gli scaffali del negozio appurando che alcuni barattoli erano stati prelevati e nascosti nello zaino mentre successivamente in cassa i due avevano presentato solo una confezione di succhi. Qualificandosi, come ha detto la sicurezza, ha innescato subito una violenta reazione del ragazzo che ha tentato poi la fuga. L'intervento della polizia ha permesso di rintracciare il giovane poco distante dal supermercato. Marito e moglie sono stati denunciati per rapina impropria. Nel corso di mirati servizi da parte della Polizia di Stato per il contrasto della diffusione dell'infezione da coronavirus sono state elevate due sanzioni amministrative per il non corretto utilizzo della mascherina in luogo aperto. Si attendono da un momento all'altro i risultati delle nuove analisi condotte per verificare la presenza di trialometani nell'acqua che sgorga dai robinetti delle utenze che si trovano nelle zone a monte di Civitavecchia. L'ordinanza di non potabilità resta quindi in vigore con l'acqua che non può neanche essere bollita essendo l'inquinamento chimico e non batterico. C'è da dire che in passato fenomeni di inquinamento da trialometani sostanza considerata cancerogena e che si forma in seguito a una eccessiva clorazione delle acque non si sono risolti in tempi brevissimi. Quindi non è escluso che l'ordinanza emanata giovedì scorso dal sindaco sia destinata a rimanere in vigore anche per qualche giorno. Si raccomanda quindi nel frattempo di non utilizzare assolutamente l'acqua per scopi potabili neanche dopo bollitura e che le zone interessate sono quelle che si trovano a monte di Civitavecchia. Si tratta in particolare della zona di via Terme di Traiano, via Ugo Dascia, via Don Milani, via Nuova di Saliborio, via delle Molacce, a sinistra di via Terme di Traiano in direzione Tarquinia, via Pascoli, via Cantù, via Berlinguer, via Alfieri, via Guastatore del Genio e via del Casaletto Rosso. Civitavecchia mantiene anche in un periodo di attività ridotta come l'attuale la di leadership nel settore del crocerismo, una leadership che però sembra non essere assolutamente supportata sotto il profilo delle iniziative delle grandi compagnie armatoriali che operano in città. Vediamo a riguardo il nostro servizio. In occasione della ripartenza della sua ammiraglia Costa Smeralda in programma per domani, Costa Crociere ribadisce il suo impegno per Savona. La compagnia italiana ha infatti intenzione di donare alla città un'area giochi per bambini da realizzare in uno spazio esterno che sarà scelto insieme al Comune e alla soprintendenza archeologica Belle Arti e Paisaggio. È quanto scrive Lanza in una nota di venerdì scorso, poi ripresa da numerose testate locali della Liguria. Che dire, l'odevole iniziativa, quella della grande compagnia armatoriale italiana, ma c'è un ma, il ma è rappresentato dal fatto che in tutti questi anni a Civitavecchia non sia stata assunta una minima iniziativa di analogo tenore. Il traffico crocielistico ha avuto uno sviluppo esponenziale negli ultimi 15 anni e Costa Crociere, assieme a MSC e Royal Caribbean, hanno avuto anche lo straordinario privilegio di ottenere una straordinaria concessione quarantennale per gestire le banchine e il terminal poi realizzato a sue spese. Ma per il resto poco o niente. Nonostante profitti milionari registrati regolarmente ogni anno, la Roma Cruise Terminal, ovvero la società che gestisce le crociere a Civitavecchia e che, come detto, è composta dai tre soci Costa Crociere, MSC e Royal Caribbean, ha tenuto nei confronti della città un profilo bassissimo. Pochissimi occupati, visto che non arrivano neanche a 20, e scarsissimi interventi nel sociale. A parte un modesto contributo nei primi anni del secolo per favorire le attività del Traiano, non risulta vi siano stati altri interventi in favore della cultura, del sociale, dello sport e soprattutto della sanità. Mentre negli anni altri enti e fondazioni hanno effettuato donazioni a San Paolo da parte dei signori delle crociere di Civitavecchia, non è arrivato nulla. Insomma, verrebbe da dire che le crociere hanno portato in città tanto fumo e poco, pochissimo arrosto e non ci si venga a parlare di indotto. Quello c'è anche a Genoa, a Savona e nelle altre realtà dove però si interviene e non poco nel sociale. L'amministrazione del fare revo che non risparmia neanche il mercato, il Movimento 5 Stelle, torna all'attacco dell'amministrazione comunale affermando che qualche giorno fa la Giunta tedesca ha revocato la riqualificazione di Piazza Regina Margherita e la sistemazione delle aree esterne al mercato ittico. Dopo 16 mesi di nulla, anche sul mercato, affermano i grillini, l'amministrazione tedesco spreca tempo e soldi pubblici già spesi per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere per la gara portata a termine da città metropolitana e già aggiudicata. Ora, alla faccia della continuità amministrativa, a parte il rischio di dover indenizzare giustamente la giudicataria della gara, si ricomincia programmando una nuova progettazione che comprenda Piazza Regina Margherita, Piazza del Conservatorio e le aree limitrofe con l'obiettivo di aumentare di superficie coperta e le strutture fisse. Un'intenzione che, stando ai pentastellati, renderà necessaria una variante urbanistica che dovrebbe ottenere l'autorizzazione paesaggistica e tutta una serie di autorizzazioni di difficile approvazione, vista anche la posizione al centro storico. Tutto ciò, concludono, richiederà anni, se tutto va bene, per arrivare all'inizio dei lavori. Inquinamento assolutamente sotto controllo a Civitavecchia e ancora una volta grazie al maltempo. I dati forniti da Arpalazio e relativi al periodo compreso fra il 28 settembre e il 4 ottobre scorsi segnalano infatti una situazione veramente ottimale sul versante dell'inquinamento atmosferico. Tutti gli agenti inquinanti controllati sono infatti abbondantemente al di sotto dei limiti di regge. Vediamo. Il maltempo continua ad abbattere l'inquinamento. L'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di Arpalazio e relativo al periodo compreso tra il 28 settembre e il 4 ottobre conferma il crollo di tutti gli agenti inquinanti che si era già evidenziato nella settimana di osservazione precedente. Un crollo, così come era avvenuto dal 21 al 27 settembre, conseguente al diffuso maltempo del periodo, caratterizzato da precipitazioni e forte vento. Una situazione che, come già spiegato nel nostro articolo della scorsa settimana, si era già verificata anche negli anni scorsi, quando, di fronte a fenomeni atmosferici particolarmente consistenti, i valori delle sostanze chimiche controllate erano arrivati ai minimi termini. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, la centralina di Villa Albani, che nel precedente report aveva fatto registrare 23 microgrammi al metro cubo, è salita a quota 32. Al porto si è passati da 30 a 32 microgrammi, in via Morandi da 23 a 30 e in via Roma da 30 a 38. Piccole variazioni in aumento, comunque poco significative nei valori assoluti. Anche il particolato, ovvero il PM10, si è mantenuto ben al di sotto dei livelli fatti registrare ad agosto e per quasi tutto settembre. In città si è passati da 13 a 16 microgrammi al metro cubo, mentre in porto si è rimasti sui 13 microgrammi. Particolarmente bassi anche i valori del monossido di carbonio, importanti per la presenza della centrale a carbone di Ettore Valdaliga Nord, misurati a 0,2 microgrammi al metro cubo in città, a 0,3 microgrammi in via Roma. Ancora non disponibile a fiumaretta, con la centralina evidentemente in fase di manutenzione. Così come è indisponibile, perché misurato sempre dalla centralina di fiumaretta, il benzene, mentre l'ozono è passato da 59 a 60 microgrammi al metro cubo. Bassissimi i valori anche nei quartieri, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino, con soli 4 microgrammi. Seguono Aurelia con 6 microgrammi, il Faro con 10, Campo dell'Oro con 11 e San Gordiano con 15. Non disponibile a fiumaretta. Per quanto riguarda il particolato, 6 microgrammi ad Aurelia, 11 a Sant'Agostino, 13 al Faro e 19 a San Gordiano. Non disponibili i dati delle centraline di fiumaretta e Campo dell'Oro. L'associazione Città Futura sottoscrive quanto dichiarato dai giovani del collettivo No al Fossile di Civitavecchia, che hanno partecipato al sesto sciopero globale per il clima svoltosi a Roma. Invitati dai giovani del Free Day for Future di Roma, i giovani hanno messo in rilievo, come in uno dei territori più inquinati d'Italia, che ha già pagato prezzi altissimi in termini di ambiente e salute, è anacronistico e sbagliato autorizzare una riconversione della centrale da un combustibile fossile ad un altro, anziché abbracciare la sfida del cambiamento. Hanno inoltre evidenziato l'incomprensibile contraddizione fra gli annunci a tutti i livelli verso la transizione verde e i finanziamenti concessi alle lobby del Fossile per fare nuove centrali a gas e messo l'accento sulle responsabilità e l'ineguatezza della politica che sembra non accorgersi che il mondo sta inesorabilmente prendendo un'altra strada. Due soci del Leo Club Cipitavecchia Santa Marinella hanno partecipato come volontari al progetto Extreme Cover Leo Edition che ha visto la partecipazione di 20 giovani volontari dell'associazione del Leo Club Italia pronti a sporcarsi le mani per rinnovare l'area esterna della casa Ronald McDonald Bello Sguardo di Roma, una struttura che da diversi anni permette alle famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Bambino Gesù di soggiornare gratuitamente a Roma stando così più vicino ai loro piccoli. I bambini insieme ai loro genitori potranno quindi usufruire di un'area rinnovata in cui rilassarsi, piantare fiori, fare picnic e disegni all'aperto e tutto questo grazie al sostegno della Lions Club International Foundation e dell'Eoclub Italia. Si è conclusa ieri sera con le ultime premiazioni la nona edizione dell'International Tour Film Festival che si è svolto all'hotel San Giorgio. Tanti premiati anche in ambito letterario e non solo cinematografico con una Cinque Giorni che ha visto sfilare sul red carpet tanti attori e registi del cinema italiano ed internazionale. Questa sera alle 21.30 su Tele Civitavecchia subito dopo la trasmissione sportivamente andrà in onda uno speciale dedicato alla terza, alla quarta e la quinta serata della Kermesse. Novità per quanto riguarda Civitavecchia, Calcio e Soccer, CSL Soccer sono saliti a tre i positivi al Covid nel gruppo nero-azzurro. Attesa per il risultato dei tamponi effettuati oggi invece per i rosso-blu che se negativi potranno tornare ad allenarsi. Vediamo. Salgono a tre i positivi al Covid dal Civitavecchia Calcio. Questo l'esito dei tamponi effettuati dai nero-azzurri nei giorni scorsi. Oltre al giovane calciatore di cui si è parlato giovedì che è sintomatico sono risultati positivi anche un altro giocatore della prima squadra e un membro dello staff, entrambi asintomatici. Giocatori e staff risultati negativi rimarranno comunque in quarantena fino al 22 ottobre quando verrà rifatto il tampone a tutti e in caso di conferma di negatività potranno tornare ad allenarsi. Dopo non aver disputato ieri il derby contro la Corneto Tarquigna verrà rinviata anche la gara di domenica del Tamagnini contro il V3 Roma ma a forte rischio c'è anche il match di domenica 25 ottobre sul campo del Sant'Angelo Romano. Anche la CSL Soccer ha visto rinviata la sua partita che l'avrebbe vista giocare contro il Passo Scuro. Per i Civitavecchiesi la quarantena è finita ieri ma adesso sono tutti col fiato sospeso in attesa dell'esito dei tamponi effettuati oggi e i cui risultati dovrebbero uscire nella giornata di domani anche se nessuno del gruppo Rosso-Blu ha sintomi riconducibili al Covid-19. CSL che si è confermato che tutti sono negativi tornerà a giocare domenica quando farà visita alla Sorianese. Non finisce qui però perché invece in dubbio c'è la gara del 25 ottobre in cui i Civitavecchiesi dovrebbero ricevere il fregene maccarese. I Rosso-Blu però sono in quarantena fiduciaria fino al venerdì prima del match ed è probabile, come detto per il Civitavecchia, che anche questa partita venga rinviata a data da destinarsi. Una situazione tra l'altro che potrebbe cambiare quando uscirà il nuovo DPCM emanato dal Premier Conte. La peggiore delle ipotesi prevede addirittura il blocco dei campionati di calcio dilettantistici ed è già ufficiale che i giorni di quarantena per chi è stato a contatto con un positivo passeranno da 14 a 10. Come detto, una situazione tutta in divenire e che potrebbe cambiare di ora in ora non resta che attendere. Passiamo al pugilato. Cristian Gasparri sarà sul ring della finale del trofeo delle cinture della categoria Super Piuma. Il pugile della Civitavecchia boxa sconfitto ai punti nella tenso struttura di Via Sardegna all'avversario sabato Sirica nella riunione Pugni Popolari. Gasparri ha comandato per tutto l'incontro grazie alla capacità di mantenere le distanze dal campano e non gli ha permesso di rientrare in corsa nella seconda parte del combattimento. Vittoria anche per Emiliano Marzili che in una sfida senza cinture in palio contro Emiliano Salvini ha prevalso ai punti. Match senza storia o il tizio che ne ha approfittato soprattutto per affinare le condizioni in vista dei prossimi appuntamenti. Passiamo al rugby. Bello, tosto e pieno di interessanti spunti. È il riscontro del primo test match per il CRC che al Moretti della Marta ha sfidato il Rugby Roma Olympic Club. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e nei minuti iniziali è prevalso un equilibrio nel punteggio con assenze di meta. Di mete, il CRC ha messo in evidenza nei minuti successivi spunti in velocità, difesa e tusce ed ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due mete. Dall'altra parte, il Rugby Roma Olympic Club ha retto all'urto degli avanti e dei tre quarti del CRC con un ottimo gioco di placcaggio e giropalla. Nel secondo tempo, il CRC metteva la pallovale altre due volte nella meta avversaria portandosi a quattro mete il bottino e subiva una meta nel finale di partita. Passiamo al basket, terzo impegno amichevole per la Stemar 90 che sabato sera al Palatellene di Roma ha affrontato lo Smith formazione inserita nell'altro girone di Cigold. Si è trattato di un test importante, soprattutto sotto il profilo fisico, visto che la giovane compagine capitolina ha giocato a ritmi altissimi pressando i rossi e neri dall'inizio alla fine. Passiamo adesso al calcio a 5. Tanto rammatico per i civili vecchi nel suo esordio assoluto in Serie C1. I neroazzurri hanno ceduto per 5 a 3 sul campo dell'atletico Grande Impero in rete trappoline e amici selliparelli. In Serie C2 finisce con 1-0-0 il derby per la Futsal Academy nella Tana del Santa Severa in una gara con poche occasioni. Parte con un successo invece la stagione dell'atletico Tirrena in Serie C femminile. Al campo di via Giulio Cerruti la formazione allenata da Olimpia Santoro ha sconfitto per 4 a 2 il Maranola dopo una partita non semplice. Doppietta per capitane Maurelli a segno anche Bevilacqua e Lena. E vediamo ad una segnalazione. Alcuni delle spettatori ci hanno contattato da via del Casaletto Rosso per segnalare una segnalazione di pericolo che sarebbe presente una volta passato il ponte della 12. Sul lato destro ci sarebbero 4 alberi ad alto fusto posti pericolosamente in bilico sulla sede stradale. I residenti che ci hanno contattato dichiarano di aver contattato i vigili urbani senza però successo. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete rimanere collegati con la nostra redazione seguendoci sui nostri canali social e precisamente Facebook e Youtube oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Per quanto mi riguarda è tutto. Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti.